the score internazionali d'italia maschili decima edizione golf club biel ridono perché non sono bassi come me stai con noi where are you from germany e chi vincerà italiano però non lo capisce ride ma non lo capisce i know which place i'm from i know my home when i'm in doubt and struggling that's where i go an old friend can give advice where new friends only know i have story that's why i always keep them tight and why i'm ok i said i'm ok you know what my mama said you know what she told me mama said that it was ok mama said that it was quite alright and it was ok internazionali d'italia reply quest'anno svelano una grande novità che affascina tutti i 144 hotleti under 16 in gara i giovani di 20 nazioni si sfideranno infatti non solo per l'ambito titolo ma per un invito preziosissimo al 73esimo open d'italia che raddoppia il monte premi avvicinando nomi stellari del golf mondiale un'emozione in più dunque oltre a quella della conquista del trofeo teodoro soldati enorme campione fuori e dentro i green al quale dedicata questa manifestazione di assoluto prestigio c'è stato grande gol fabiella il percorso è sempre impegnativo ma questi ragazzi fanno sul serio ci ha provato nuovamente l'azzurro riccardo leo che aveva infiammato l'anno scorso tutto il pubblico piemontese chiuderà in sesta posizione dopo esser scivolato solamente nell'ultimo faticoso round di questo torneo dal gusto open grazie leo parte leader rallenta ma poi recupera il gelido team maier dalla germania il suo swing non è mai violento con il che dice intesa e la sua stagione porta già numerose vittorie di rilievo segue il gioco con attenzione calma ma attacca l'ultima buca il coraggio gli fa segnare un birdie da professionista che varrà il meno tre totale il titolo ed una premiazione emozionata dedicata alla famiglia del grande teo vincono il trofeo delle nazioni tedeschi capitanati da maier ma sono gli azzurri a prendere la medaglia d'argento grazie alla sintonia tra leo romano e campigli un campionato intenso che porta con sé un gusto romantico senza eguali un trofeo rinunciabile dal quale sono passati i migliori giocatori internazionali che ora possiamo tifare sui tour maggiori vedere giocare gli andir 16 è un grande show sapere che tra di loro ci saranno i beniamini del golf mondiale fa un certo effetto complimenti team adesso puoi rimanere in italia il cibo è buono ed il nostro open ti rimarrà nel cuore siamo con il vincitore degli internazionali team maier prima di tutto complimenti team per il tuo giro e la vittoria come hai giocato oggi il mio gioco è stato buono e sono abbastanza contento di come ho giocato il mio primo giro di oggi non è stato grandioso non ho colpito dei grand drive e questo non mi aiutava a cercare le aste per fare birdie l'ultimo giro invece è stato come i primi due del torneo ottimi drive buon gioco da tia green e ho chiuso anche qualche buon pad direi che è andato tutto bene a chi vuoi dedicare questa vittoria posso avere qualche secondo per pensare non sono sicuro ok voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia e chiaramente al mio coach che mi ha fatto lavorare bene durante l'inverno allenamento che è servito ora hai appena vinto questo torneo e la wild card per l'open d'italia di settimana prossima sei elettrizzato sì non so se potrò giocare perché sarà in concomitanza con il german championship ma adesso vedrò cosa fare ok allora in bocca al lupo nel caso adesso puoi dire ciao alla tua ragazza io non ho la ragazza a questo punto complimenti team sei il nuovo campione internazionale swing your life yeah Grazie a tutti